Greco, quale sarebbe la coalizione ideale secondo lei? Io credo che il Partito Democratico in questo momento ha la responsabilità di scegliere un po' quello che sarà il futuro della Regione. Sembra assurdo che sia io a dirlo, però è così. Perché? Perché se il Partito Democratico vira verso azione Italia Viva, è chiaro che da quel lato noi abbiamo già detto che è una strada impercorribile. Quindi significa chiudere le porte al Movimento 5 Stelle, significa riconsegnare la Regione nelle mani del centro-destra, a mio avviso, o comunque renderla contendibile. Io credo che un accordo chiaro tra Movimento e Partito Democratico, invece non lasci scampo a nessuno politicamente, credo che un accordo chiaro fatto sui programmi, fatto sugli intendimenti comuni da portare a termine, possa essere la strada da dover percorrere. Quindi lei opta per questo accordo solo con il Partito Democratico? Sì, certamente poi c'è un'altra area di partiti che fanno capo comunque al centro-sinistra, con cui stiamo dialogando benissimo, devo dire, che è forse civiche soprattutto, ma lo stesso Massimo Romano, insomma, tante dei soggetti politici che devono avere però un intendimento chiaro, comune. Nelle altre regioni, voglio dire solo che nel Lazio e in Lombardia, vedremo che cosa succede con il Movimento che va solo o che va insieme al Partito Democratico. Ogni regione ha una storia a sé e chi conosce, a mio avviso, gli ultimi anni della storia politica del Molise, capisce che è questa la strada da seguire. Brevemente. Se invece, questo lo dico perché prima di parlare di candidati, dico, bisogna capire il perimetro, altrimenti... Ecco, a proposito del perimetro, non pensa che questo perimetro possa un po' penalizzarli per vincere per la battaglia finale, perché senza azione Italia Viva si perde una gran fetta. Ma guardi, lei parla con una persona che senza presunzione dà solo 20 candidati contro 300. Ma non 5 anni fa? 5 anni fa, Greco, lei ha fatto un grosso risultato. Adesso però le cose sono cambiate. Certamente, questa volta però avremo la possibilità di andare in una coalizione con più soggetti politici. Credo che questi 5 anni anche i cittadini molisani abbiano imparato a conoscere, ad apprezzare in alcuni casi, anche a contestare la nostra azione. Però siamo più riconoscibili, certamente, agli occhi dei molisani. Quindi lei, in questo senso, io sono un po' influenzato perché parto da un presupposto differente. Ho capito perfettamente le posizioni sia di Vittorio Facciolla, le ha capite anche Franco Valente. Quindi mi pare di capire che il Movimento 5 Stelle non sia poi tanto d'accordo nel trovare questa intesa con azione Italia Viva. Può essere penalizzante per il centrosinistro, per la vittoria finale. Questa è una posizione personale. Io non credo che 5 Stelle abbia detto nel Molise una cosa del genere. No, no, lo ha detto anche il coordinatore regionale, ovunque, ci sono un fior di interviste, ovunque. Poi in politica valgono le comunicazioni ufficiali. Non è che si può rimandare tutto alla sensazione. Non è che si può rimandare tutto alla sensazione.